Sei finito dritto in cima alla mia lista nera. Sarà vecchio e letto come il cucco. Ma Rashman alla fine sa farsi valere. Beh, eccomi di nuovo qui in una pozza del mio. Avete avuto la vostra occasione, schifosi. Non ne avrete altri. Una ragazza può divertirsi mentre dei cadaveri provano a ucciderla? Ma certo che sì! Woohoo! Ehi! Mi c'è una computer! Adesso deve essere portata qua su! Palle di neve! Eh, perché no? Non te mordete, miei nuovi amici! Collaborate con il compagno del faro! È un uomo... ingenioso! Il mio amico nella torre conosce questo Nicolai. Fuorufa il cavolo. Ah,усовana! Dottorale… Accomplاعiamo oggi! Hai fatto chi viene. Guarda, tu devi compagле! Indimitati! Capita! Bisca Christianity! Abstabita! ешьina! Piacciada! upp赤! Indimitati! Hai colpito uno in faccia, Marton! È stato un caso! Ehi, perché proprio io? Marton è più testo, Rashman più letto e Misty più... Cosa, quindi? Perché non vedo la luce, i parenti e i miei animali? Che pre-morte orribile! Spero che stavolta non è stata colpa mia! Troppo dura da uccidere! Munizioni al massimo! Bene! Starebbe bene su una maglietta! Spero che non vulnerare! Le mie povere ginocchia! Nessuno può trattarmi così! Men che meno un pezzo di merda ambulante! Non sono pronto a morire! E voi non potete permettervi di perdermi! Ah! Non si possono fermare i buoni! Neanche me! Beh, è divertente! Almeno dopo che finisci di fartela sotto. Grazie.